Francesco Rossi ha inventato ex novo delle formule narrative nel cinema che hanno fatto scuola e hanno fatto scuola poi sia nel cinema ma anche nella televisione, nel giornalismo, il cinema di inchiesta lo ha inventato lui. Con i registi Giuseppe Tornatore, Roberto Andò, Mario Martone e lo scrittore Raffaele Lacapria, il comune di Napoli ha celebrato il ricordo di Francesco Rosi, il grande regista napoletano da poco scomparso. Nella sala dei baroni del Maschio Angioino, affollata da esponenti del mondo dello spettacolo e da comuni cittadini, il sindaco De Magistris ha consegnato una targa alla figlia Carolina, accompagnata da Luca De Filippo e da Massimo Rosi. Mio padre parla attraverso i suoi film e quindi anche non essendoci più i suoi film restando sono sempre testimonianza attiva di quello che lui era come cittadino, come napoletano e come regista. Quindi fortunatamente gli artisti che lasciano una traccia sono meno dimenticabili di altri che invece fanno dei mestieri più eterei. Un uomo che ha fatto tantissimo attraverso il suo lavoro per Napoli e per noi persone perché è riuscito a raccontare delle cose che ci riguardano personalmente. Negli ultimi anni della sua vita Francesco si è accostato alle commette di Edoardo mettendolo in scena e lo ha fatto con grandissima umiltà come solamente un grande sa fare. Nato a Napoli nel 1922 Francesco Rosi inaugurò con i suoi film inchiesta il filone del cinema politico. Tra tutti le mani sulla città rimane ancora oggi una denuncia forte e coraggiosa sulla corruzione politica e sulle collusioni tra istituzioni e speculazioni edilizia negli anni 60. È stato un precursore, ha visto sempre lontano ed è attualissimo. Ricordo come se fosse ieri l'omaggio che facemmo al San Carlo per i suoi 90 anni. Quindi oggi è la città che rende omaggio a un grandissimo maestro napoletano che col suo insegnamento rimarrà per sempre scolpito nella nostra città ma non solo nella nostra città. Ricorderò sempre il suo continuo rapporto con Napoli, ne parlava sempre e poi ricorderò la passione che lui metteva in tutte le cose che faceva. Insomma era una persona eccezionale. La giornata dedicata al ricordo del maestro Francesco Rosi è stata aperta dalla proiezione di Citizen Rosi, un omaggio al regista napoletano realizzato da Giovanni Bellotti per Arcimuvi. È un omaggio dovuto perché Rosi rappresenta moltissimo per Napoli, non solo per il cinema ma per la storia di questa città ed ha anche avuto un rapporto particolare con l'associazione con Ponticelli e con le nostre attività negli ultimi vent'anni sostenendoci quando ne avevamo bisogno. Mi ha colpito purtroppo molto le immagini che ho visto perché non sono sensibile alle parole ma sono ancora molto sensibile all'immagine e alla voce di mio padre. I ricordi sono stati tutti bellissimi, molto sinceri, molto veri e si sentiva un vero affetto e quindi non essendoci retorica ma essendoci anche qui verità è stato molto bello. Sarà un punto di riferimento per sempre.